L'ex sindaco di Eboli Massimo Cariello torna al lavoro. Il giudice della seconda sezione del Tribunale di Salerno ha stabilito che dalle ore 9 alle ore 12 Cariello potrà recarsi presso il suo studio per svolgere la sua attività professionale di conciliatore. Si attenuano quindi le misure cautelari per l'ex sindaco. Invece, mercoledì 17 febbraio si terrà l'udienza per le videocamere di sorveglianza ed il 25 febbraio per il processo con rito abbreviato per le varie questioni giudiziare e relativi arresti domiciliari.